Nel nuovo clima di rinascita democratica, l'esito delle consultazioni del 2 giugno avranno conseguenze e ripercussioni importanti per la piccola cittadina Umbra di Spello. In Italia il referendum istituzionale vede l'affermazione della Repubblica, che in Umbria ottiene una percentuale di consensi superiore alla media nazionale, ma che a Spello risulterà essere ancora più marcata. Il 78% vota infatti a favore della Repubblica. Questo dato si spiega con il consenso ottenuto alle elezioni per l'Assemblea Costituente dai partiti che più decisamente si erano espressi per la Repubblica. Se all'Assemblea Costituente il partito di maggioranza relativa in Italia è la democrazia cristiana, in Umbria si affermano i due partiti della sinistra, con la prevalenza del Partito Comunista sul Partito Socialista in una misura che a Spello è ancora più accentuata. Questi risultati portano il 6 giugno alle dimissioni dell'allora sindaco di nomina prefettizia, l'ingegner Filippo Preziosi. Il prefetto, l'avvocato Luigi Peano, nomina quindi alla carica di sindaco, a decorrere dal 12 agosto, la dottoressa Elsa Damiani Prampolini, probabilmente la sola donna a ricevere tale designazione da un organo del Ministero dell'Interno. Ma chi era Elsa Damiani Prampolini e qual è la sua storia? Elsa nasce a Milano il 26 aprile del 1899. Il padre, originario di Spello, dopo aver conseguito il diploma di perito elettrotecnico si era trasferito nel capoluogo Lombardo e poi in un Uguai per lavoro. Conseguito il diploma magistrale, nonostante il padre, come tra l'altro la maggioranza degli italiani, considerasse non adatti e non necessari per una donna agli studi universitari, Elsa si iscrive alla Facoltà di Medicina dell'Università Statale di Milano laureandosi nel 1924 con il massimo dei voti. Nel 1926 sposa Giacomo Prampolini, che proprio in quegli anni inizia la sua carriera letteraria, e dalla loro unione nel 1927 nascono Maria Elisa e nel 1931 Ilaria. In questi anni, nonostante le diffidenze in ambito lavorativo, sostenute anche dalla cultura fascista e la contrarietà dello stesso marito, Elsa cerca di esercitare la professione di medico e a tal fine aderisce alla società umanitaria. Nel 1938, durante un viaggio in Germania, matura la convinzione che da lì a poco sarebbe potuta scoppiare una guerra e alla fine dello stesso anno convince il marito a trasferire la famiglia Spello, dove spesso aveva trascorso le vacanze estive. In questo piccolo paese, caratterizzato da un'economia agricola e una società radicalmente divisa tra la maggioranza dei lavoratori e il ristretto gruppo dei proprietari terrieri, si guadagna ben presto il titolo di Medichessa di Milano. La guerra, che dall'agosto del 1943 raggiunge anche il territorio umbro con i bombardamenti aerei, aggrava soprattutto la situazione economica e la condizione dei contadini, operai e artigiani, tanto da indurre Elsa, che pure non era una militante comunista o antifascista, a schierarsi contro il regime. Nel 1942 intanto nasce il figlio Gaetano e proprio per i conseguenti impegni familiari riesce a rifiutare la proposta fattagli dalle autorità fasciste di occuparsi dell'assistenza agli sfollati, proposta che invece accetta dopo il 25 luglio del 1943, nella dichiarata convinzione che con l'arresto di Mussolini l'Italia sarebbe cambiata. Dopo l'8 settembre e l'occupazione tedesca, quella dichiarazione le costa l'arresto all'inizio del 1944, con la conseguente minaccia di trasferimento nel campo di concentramento di Mauthausen. Sono quindi queste esperienze e il prestigio di cui gode presso la popolazione che inducono il prefetto a nominarla sindaca nell'agosto del 1946 e poi il partito comunista a candidarla come indipendente nella sua lista alle elezioni amministrative del 10 novembre dello stesso anno. Per la medichessa di Milano si tratta di un successo personale. Elsa Demiani-Prampolini infatti ottiene ben 1967 preferenze su un totale di 2651 votanti. Successivamente si iscrive al partito comunista e nonostante la delusione suscitata dall'invasione sovietica dell'Ungheria non lo lascia per non provocare scossoni nell'amministrazione comunale. Alla guida del comune di Spello è confermata anche dopo le elezioni amministrative del 52 e del 56. Le elezioni del 60 la vedono ancora una volta protagonista, essendo la seconda candidata più votata al Consiglio Comunale, ma con 14 voti a favore ed uno contrario verrà eletto sindaco il 35enne Ermanno Petrucci per un evidente ricambio generazionale. Rimane tuttavia nell'amministrazione comunale di Spello, nelle veste di consigliera, fino alla scadenza della carica avvenuta nel 1964. La sua figura è estremamente importante non solo perché ricopre la carica di sindaca per tre mandati consecutivi, l'unica tra l'altro tra le 11 donne elette a sindaco nel 46 in Italia a riuscirci, ma perché in Umbria è la sola a rivestire un ruolo di primo piano fra le 33 donne elette su 97 candidate. Questa diffidenza nei confronti del ruolo della donna come amministratrice emerge chiaramente in un articolo redatto per il periodico della sezione Enti locali del PC l'amministratore democratico del 1948. Che importa che in qualunque ufficio mi presenti sia accolta in quanto sindaco donna con molta deferenza, cortesia ed ogni sorta di gentilezza, quando so che l'insidia mi sta alle spalle, che è il primo caffone ricco che si presenta dopo di me al sicuro sopravvento e che io non riesco a fare per i miei amministrati quanto vorrei, muore a Pisa il 10 aprile del 1992. 52 o 62 62 62 Grazie a tutti